omicidio fossombrone si indaga sul movente verso le elezioni per biancani e sano dualismo con vimini al campus mancano le aule scolastiche in vista del prossimo anno federica pellegrini il peserese matteo giunta annunciano la dolce attesa dopo tre anni torna la festa del basilico buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro spazio informativo della sera telegiornale di mercoledì 26 luglio che apriamo occupandoci dell'omicidio avvenuto ieri a fossombrone in cui ha perso la vita la quarantenne marina luzzi uccisa con un colpo di pistola dal fratello del fidanzato nonché vicino di casa andrea marchionni un delitto sconcertante il cui movente è ancora un enigma è lutto cittadino nel comune di fossombrone la giunta del sindaco berloni esterna così dolore e sconcerto per l'omicidio di marina luzzi che da ieri ha stravolto la cittadina metaurense sconvolta per quel gesto di andrea marchionni recluso da ieri nel carcere di villa fastigi dopo che poche ore prima si era presentato alla caserma dei carabinieri di fossombrone confessando di aver sparato e ucciso marina compagna del fratello enrico i carabinieri hanno chiarificato la dinamica del delitto mentre resta un enigma il movente che solo gli interrogatori ad andrea marchionni potranno dipanare la scena del crimine è stata quella della villetta bifamiliare in zona piancerreto in cui due fratelli marchionni vivono da vicini di casa in quel martedì di luglio però il 47enne andrea da incensurato si trasforma in killer decidendo di scendere dalla sua abitazione al piano inferiore e sparare in testa marina 40 anni rimasta sola in casa mentre enrico aveva il giorno libero dal lavoro da pizzaiolo a ristorante mancinelli nel centro di fossombrone una mattinata libera in cui enrico aveva portato la figlia della coppia di appena due anni e mezzo a svagarsi in una piscina non lontana da casa uno sparo udito dallo stesso enrico che è rientrato in casa e assistito alla scena spiazzante della compagna a terra esanime e morta sul colpo negli stessi istanti in cui ha chiamato il 118 il fratello andrea andava a costituirsi la procura di urbino indaga ora per capire cosa abbia mosso il gesto estremo di un uomo descritto come estremamente schivo e introverso con poche amicizie falegnam disoccupato ma con una passione intensa per la pittura soprattutto marchionni risulta estrano i servizi sanitari per cure o problemi psicologici d'altronde deteneva regolarmente quella pistola beretta come arma per competizioni sportive ora invece dovrà rispondere di omicidio volontario di marina che lascia orfana di mamma una bambina piccola e lascia in un dolore lancinante il compagno la madre e una sorella gemella e cambiamo argomento il 9 giugno del 2024 i pesaresi saranno chiamati alle urne per votare il nuovo sindaco della città matteo ricci primo cittadino uscente un mese e mezzo fa si era sbilanciato sui nomi papabili per il partito democratico vale a dire daniele vimini e andrea biancani quest'ultimo intercettato nella appena conclusa festa dell'unità ha sesso fermato appunto su questa tematica mancano ormai meno di 11 mesi al prossimo 9 giugno 2024 quando i cittadini di pesaro andranno alle urne per le amministrative se ricci in occasione dell'incontro pubblico nove anni da sindaco tenuto un mese e mezzo fa non aveva escluso una coalizione di centro-sinistra il primo cittadino di pesaro aveva anche lanciato per la prima volta i due nomi delle pd in lizza per una candidatura la scelta tra andrea biancani e daniele vimini ricadrà sulla figura che più addetta di ricci dimostrerà legame alla città saprà dare una risposta alle difficoltà non perdendo di vista però l'ambizione di una pesaro su scala nazionale andrea biancani che in occasione della festa dell'unità del weekend scorso in baia flaminia ha rilasciato per la prima volta una sua prospettiva su questo sano dualismo all'interno del pd ovviamente io sono tra le persone che sono state come dire individuate coinvolte a questa per la corsa alle elezioni del nuovo di giugno del prossimo anno tra i possibili candidati sindaco devo dire che ancora è prematuro anche perché manca poco meno di un anno non si possono fare campagne elettorali così lunghe anche perché ognuno di noi c'è proprio ruolo si deve occupare di quello per cui stato viene pagato per per fare quindi io penso che sia prematuro noi per quanto riguarda il centro sinistra dovremmo trovare un candidato che sia un candidato che cerca di unire le forze del centro sinistra quindi occorrerà condividere non solo all'interno del partito democratico ma anche con le altre forze tutte le forze che vorranno far far parte di questa coalizione ovviamente il partito democratico sarà e dovrà essere il partito che tira come si dice però dovremo fare un come dire un confronto aperto all'interno del partito democratico cercando di individuare quella figura che possa come dire essere che possa con di dove possono convergere più persone possibili più forze politiche possibili per poi parlare con il resto della coalizione e si crea di presentarci più forti possibili anche perché il vento che tira sicuramente un vento in questi ultimi mesi abbiamo visto un vento di centrodestra e noi per poter mantenere la città dovremmo sicuramente presentarci uniti forti con la consapevolezza che in questi anni abbiamo fatto bene siamo abbiamo fatto scelte importanti la città di pesaro è una città dove dove si sta bene dove si vive bene e sicuramente questo è legato al fatto che è stata ben amministrata nel corso degli anni i consiglieri comunali di centrodestra giulia marchionni e michele redelli chiedono alla provincia di pesaro urbino di mettere fra le priorità il campus scolastico di pesaro un campus dove c'è un cronico problema di spazi dove attualmente mancano sette aule fra bramante genga e liceo marconi in vista del prossimo anno scolastico c'è l'ipotesi di ricavare nuovi spazi in zona torraccia dopo uno spezzatino di aule che si è già allargato in zona tombaccia e che già conta quattro aule container un problema acuito dal fatto che nel consiglio regionale di ieri l'assessore francesco baldelli rispondendo a una interrogazione di marta ruggeri ha fatto presente come il campus non sia stato inserito nei bandi triennali per l'edilizia scolastica proseguono i lavori per completare la circonvallazione di muraglia ultimo tassello della strada interquartieri di pesaro lavori che a partire dal 31 luglio comporteranno delle modifiche alla viabilità fino al 6 agosto ci sarà infatti senso unico alternato mentre dal 7 all'11 agosto ci sarà la chiusura totale di strada carloni con deviazioni in via fratti e via flaminia dal 12 agosto al 30 di settembre invece sarà previsto il senso unico con transito consentito solo da santa veneranda verso muraglia c'è un problema di gioventù molesta quanto pare nel quartiere di villa san martino dove diversi residenti ci segnalano episodi ripetuti di vandalismi e suonate ai citofoni in orari notturni con i residenti che hanno chiamato più volte i carabinieri in particolare fra via toscanini e via togliati problematiche che vengono segnalate anche nei parchi compresi fra la chiesa e la scuola manzoni dove diversi residenti ci hanno segnalato schiamazzi notturni pressoché quotidiani vi ricordiamo in tal senso il numero whatsapp di rossini tv dedicato alle segnalazioni 370 366 7210 intervento singolare dei vigili del fuoco questo pomeriggio in via kennedy zona monte granaro di pesero dove in un'abitazione una donna è rimasta incastrata con una mano in una tenda retraibile nel terrazzo al terzo piano una situazione da pressione con la donna aiutata ad essere liberata da alcuni muratori presenti sul posto mentre i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare due anelli che costringevano la mano rimasta lesionata ed ora vi mostriamo un video che oggi sta spopolando su instagram ovvero quello con cui la campionessa di nuoto federica pellegrini assieme al marito peserese nonché allenatore matteo giunta annunciato di essere in dolce attesa ha scelto un giorno particolare per annunciare appunto questa gravidanza ovvero quello in cui dopo 14 anni ha perso il record del mondo nei 200 metri in favore dell'australiana molly o callaghan nel video la pellegrini mostra una scritta sul pancino con scritto will take it back ovvero ce lo riprenderemo riferito al record e al futuro nascituro o nascitura saliranno a 155 le borse di studio per i medici di medicina generale che risulteranno ammesse al corso triennale di formazione 2023-2026 100 verranno finanziati direttamente dalla regione Marche con 3 milioni e 700 mila euro dal proprio bilancio saranno invece 34 quelle sovvenzionate dal fondo sanitario nazionale e 21 quelle sostenute con le risorse del pnr lo scorso anno le borse erano già state portate in avanzamento a 111 di cui 40 a carico della regione ci sono completati i lavori di consolidamento statico del ponte di via bandiera collegamento strategico fra i comuni di gabice mare e cattolica ieri le due amministrazioni confinanti si sono ritrovate per tagliare il nastro al collegamento ripristinato sul quale sono stati investiti 450 mila euro gianmarco cecconi ex sindaco di petriano è stato nominato come nuovo commissario del partito di forza italia a pesaro una scelta annunciata dal commissario regionale francesco battistoni per dare ancora più forza alla rappresentanza politica sul territorio a pochi giorni dalla scomparsa di anna renzoni che per tanti anni ricoprì analogo ruolo a pesaro torna la sagra delle pesche di monte labate con la 77esima edizione da venerdì a 28 a domenica 30 luglio il tutto nel parco orbung del paese ci sarà l'esposizione del frutto d'eccellenza di monte labate ci saranno stand gastronomici e ci saranno concerti come quella dei roxy bar tribute band di vasco rossi dei moca club e dell'orchestra di fabrizio gli accademia spazio anche gli eventi sportivi correlati dall'ottava gara podistica e notturna al ventesimo gran premio di ciclismo riservato alla categoria esordienti una sagra che sarà anche seguita dalle telecamere di rossini tv e che vi mostreremo nei nostri spazi informativi della prossima settimana ed ora parliamo di quella che dopo la festa del porto è la festa di quartiere più longeva di pesaro ovvero santa veneranda e la sua festa del basilico che torna dopo tre anni di assenza la festa del basilico è una tradizione che dura da tantissimi anni una comunità che si ritrova attorno alla parrocchia c'è stata sempre grande sensibilità da parte di tutti i residenti e non dei parroci che si sono succeduti a santa veneranda che hanno sempre voluto bene insomma questa festa è una festa che crea identità e ormai è una consuetudine nella nostra città che tutte le parrocchie in qualche modo si caratterizzino con un evento non solo religioso ma anche di accoglienza di comunità e la festa del basilico sicuramente è una di queste forse è la più antica dopo la festa del porto quindi è una tradizione che si rinnova dopo la pausa del del covid e questo ripeto grazie ai tanti volontari che collaborano alle aziende che hanno sponsorizzato stand gastronomici barzellettieri intrattenimento per i per i più piccoli serate danzanti musica per i più giovani musica per i meno giovani tango argentino pedalata notturna tra le sotto le stelle di santa veneranda ci sarà questo tour in mountain bike che partirà da sagrato della chiesa alle 18 e faranno 25 chilometri sotto le stelle purtroppo non ci saranno i fuochi d'artificio per motivi di sicurezza la commissione ha valutato insomma che non era il contesto giusto sarà la pace per chi ha i cani che magari quando sono i fuochi d'artificio in qualche modo si ribella rispetto a questa consuetudine che c'è non sono in tutte le città d'italia ed un altro evento che torna dalla pausa forzata di pandemia è il castello magico di tavuglia ricominciamo quel castello magico l'abbiamo interrotto a causa del covid ripartiamo due giorni di magia di festa di maghi che gireranno per il castello di tavuglia grandi spettacoli iniziamo in entrambi i giorni alle ore 18 con la scuola di magia per bambini alla fine verrà rilasciato anche una certificazione ai bambini che hanno partecipato al corso dopodiché ci saranno tutte le esibizioni ogni sera dei maghi itineranti ai tavoli il sabato abbiamo il gran galà della magia in collaborazione con il festival della magia di san marino quindi maghi a livello internazionale bravissimi il lo spettacolo dei rapaci magici quindi ci saranno poi ci sarà poi anche tutta una descrizione su come conoscere meglio i rapaci poi ci sarà lo spettacolo mentre la domenica sera il clou sarà lo spettacolo con andrea fratellini che proviene da italia go talent dove ha vinto nel 2020 abbiamo lo spettacolo del fuoco con la corte maratistiana di gradara tutte le seri saranno stand gastronomici dalle 18 quindi saranno operativi dalle 18 poi ci saranno i giri col cavallo sulle mura del castello col poni per i bambini più piccoli ci sarà la peri flower in collaborazione con la prorocco fogliense e abbiamo laboratori di didattici per bambini con la biblioteca comunale di pian del bruscolo e quindi sono tante cose tutte belle quindi invece inviterei di non mancare a questo appuntamento che ormai è diventato storico tavuglio dopo quello delle moto di settembre e all'arena bcc di fanno si continua a ridere con i tanti spettacoli di teatro dialettale il 28 di luglio va in scena la compagnia del teatro dialettale il guitto e qui mi sa che c'è da litigare da quello che ho capito è una commedia ambientata in un condominio il palazzo le baruf dove appunto si litiga parecchio quindi questo fatto che le riunioni condominali portano delle volte a dei dissapori non è leggenda no no non è leggenda per niente addirittura qui ci sarà il finale un'assemblea condominiale molto infuocata infuocata addirittura è un palazzo dove avviene la baruf si vengono delle discussioni delle scagnarate diciamo così quindi avete già capito dai termini che utilizziamo tanto dialetto e sicuramente tanto divertimento speriamo di divertire il pubblico come abbiamo fatto finora insomma 28 luglio arena bcc di fano e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news come di consueto vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21 e 20 sarà dedicata allo speciale realizzato in occasione dell'ottocentesimo anniversario del santuario del beato sante nel comune di monbaroccio appuntamento come detto alle 21 e 20 e poi vi ricordo il consueto appuntamento con l'informazione di buongiorno rossini come sempre in diretta dalle 7 e 20 dal lunedì al sabato e invece si conclude qui questo spazio informativo di rossini news vi ringrazio davvero per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi